Affiliate marketing. Cos'è? Quanto ti può far guadagnare? Lo andiamo a scoprire in questo video. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di affiliate marketing. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo per favore di iscriverti al canale e lasciare un mi piace per aiutarmi a far arrivare questi contenuti a più persone possibili. In giro è pieno di video del tipo Ti faccio diventare ricco dall'oggi al domani con questa tipologia di business. Compra questo corso e diventerai, come me, milionario. Arriverai a scalare il tuo business alle 6 cifre. Oppure Vuoi avere queste macchine bellissime? Allora compra questo corso e diventerai ricchissimo! Aiuto? No! Non fatevi truffare da questi fuffa guru. Ma arriviamo quindi a parlare dell'affiliate marketing. Personalmente faccio affiliate marketing e non ho problemi a dire che all'incirca, ovviamente non è ogni mese la stessa cifra, però all'incirca guadagno circa 1000 euro al mese. Potrei fare di più? Sì, molto tranquillamente, ma avendo molti altri progetti, dedico all'affiliate marketing solo una piccola parte del mio tempo libero. Diciamo che lo utilizzo solamente per avere ogni mese quelle entrate in più, tra virgolette, fissa. Fissa ovviamente, tra virgolette, come detto in precedenza, perché non è come lo stipendio, sempre uguale ogni mese, ma può variare. Dipende dall'impegno che ci si mette. Ma quindi, io dall'oggi al domani ho fatto 1000 euro al mese? No! Sia chiara questa cosa, ci ho messo circa un mese per imparare a fare Facebook Ads e quindi, di conseguenza, affiliate marketing. Ma oggi ti spiego come anche tu puoi imparare a fare questa cosa. Ma quindi, cos'è l'affiliate marketing e come funziona l'affiliate marketing? Iniziamo dal principio. L'affiliate marketing si divide in due parti, attivo e passivo. Passivo l'avrete visto mettere in pratica molte volte, per esempio, da youtuber o influencer o persone che hanno un certo seguito. Mentre l'affiliate marketing attivo lo può fare praticamente chiunque. Ovviamente, se si studia nel modo corretto. Ma facciamo un esempio di affiliate marketing passivo. Quando, per esempio, il vostro youtuber o influencer preferito vi indica un buon prodotto da acquistare con un link in descrizione oppure in un post di Instagram indicando ovviamente il link dal quale andare ad acquistare quello al 99,9% e affiliate marketing. Anche se magari non lo sanno neanche che si chiama in questo modo. Ma perché? Questa persona guadagna una percentuale e quindi una commissione dal vostro acquisto tramite il loro link. E quindi loro guadagnano se utilizzate il loro link o il loro codice sconto. Per l'affiliate marketing attivo invece è diverso. Bisogna lavorarci su più tempo, creando delle campagne pubblicitarie Facebook e quindi trovando il giusto copy, le giuste immagini, ma anche la giusta ads. Ovviamente la tipologia attiva può portarvi molti più soldi in tasca della tipologia passiva. Ma perché esiste l'affiliate marketing? Al giorno d'oggi non tutte le aziende decidono di farsi pubblicità da soli e quindi non utilizzano la classica pubblicità in televisione oppure con i cartelloni o sui giornali per farsi conoscere. Preferiscono pagare, piuttosto che quella tipologia di pubblicità che al giorno d'oggi sta morendo, la persona, che si chiama quindi affiliato. E invece di pagarlo chissà quanti soldi, come le pubblicità che magari non portano niente, le paga semplicemente a commissioni ogni vendita che portano. Un esempio, se l'azienda Pinco Pallo SRL vuole vendere questa penna qui e fornisce la possibilità di fare affiliate marketing con un link o con un codice sconto, te puoi guadagnare una percentuale da ogni vendita di questa singola penna. Ma quindi qual è la vera difficoltà dell'affiliato? Beh, non scegli tu il prodotto da vendere alle persone, ma lo sceglie l'azienda. Quindi loro decidono e tu fai pubblicità, tramite i mezzi che preferisci ovviamente. Sempre se vuoi guadagnare, tramite quell'azienda. Non sei obbligato a prendere tutte le aziende che fanno affiliate marketing. Ora ti mostro dove io personalmente ho imparato a fare affiliate marketing. Non è un corso, ma è una vera e propria accademia che ti segue nel percorso con live settimanali, gruppi Telegram, gruppi Facebook e molto altro. Essendo un'accademia non paghi il corso, ma paghi il tempo che ti interessa starci dentro. Quindi se vorrai starci un anno, pagherai una certa cifra. Se vorrai starci un mese, pagherai un'altra cifra. Se paghi tre mesi e poi ti stanchi, puoi tranquillamente disdire. Quindi effettivamente decidi tu quanti soldi dargli e decidi tu quanto tempo vuoi starci dentro. Se sei più propenso ad imparare e sei più voglioso, ovviamente cercherai di dargli meno soldi possibili e starci meno tempo possibile. In descrizione ti lascio il link se ti interessa magari scoprire il mondo dell'accademia o entrarne a farne parte per iniziare il tuo percorso con l'affiliate marketing o altre tipologie di business online. Sì, perché non insegnano solo l'affiliate marketing, ma insegnano ben quattro tipologie di business. Questo video è giunto al termine e spero che ti sia piaciuto. Se così è stato, ti chiedo per favore di mettere un mi piace e iscriverti qua sotto per aiutarmi a far arrivare questi contenuti a più persone possibili. E tu, cosa ne pensi dell'affiliate marketing? Lo proverai? Preferisci stare lontano dai business online perché ti sembrano tutti delle truffe? Fammelo sapere qua sotto nei commenti. Ci vediamo ad un prossimo video!